Vasco Rossi altri tempi no era tre anni fa ma secondo me aveva una vita privata molto intensa Lucio Battisti mi ritorni in mente bella come sei forse ancora di più una canzone è geniale secondo me anche nel testo è veramente geniale vederti ballare Roberto no è geniale prevede già la costruzione delle canzoni moderni infatti lui assomiglia secondo me molto Bruno Mars di Fabrizio De Andrè genti diverse venute dall'est diceva anche in fondo era uguale credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male gli dicono che Fabrizio De Andrè è come il Bob Dylan italiano o dicono gli italiani che Bob Dylan è il Fabrizio De Andrè Mia Martini tu tu che sei diverso almeno tu nell'universo le storie a musica sono stati scritti nel lontano 1972 quindi quasi vent'anni prima si allora il testo è stato scritto da Bruno Lauzzi e la musica di Maurizio Fabrizio e allora questo brano ha spettato Mia Martini no no ho messo Sicilia in onore di Franco Batiatto le penne stilografiche con l'inchiostro blu la barba con rasoio elettrico non la faccio più mio padre non è un cantante ma canta molto ha un gruppo eccetera eccetera e in questi periodi aveva un gruppo e facevano le radio le cose così e loro quando cantavano in inglese cantavano lo che si chiama in francese in yaourt cos'è? a maccheroni no 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 Grazie per la visione!